Il vero giornalismo con rispetto Si può fare Si può fare e soprattutto in questo momento Ce lo stiamo un po' dimenticando E lo dico anche per la mia categoria Ecco, come hai attraversato questo personaggio E che riflessioni hai fatto? Allora, per quanto riguarda il giornalista Il giornalismo, fortunatamente ci sono ancora delle persone Io vado sempre a un festival che si chiama DIG Un festival di giornalismo importante Dove vedo e ho l'opportunità di vedere cose Che altrimenti non vedrei Cioè tutti quei reportage, quei lavori incredibili Di inchiesta che fanno giornalisti Che poi magari non riescono a trovare spazio Per essere pubblicati Quindi, come dire, il problema è sempre quello Che chi fa il proprio lavoro con passione Oggi vive con più difficoltà Di chi fa il proprio lavoro Soltanto per interesse O per, come dire, per arrivismo O finalizzato solo il proprio stipendio Quindi, insomma, a tutte le persone Che hanno passione per il proprio lavoro Hanno una vita un po' più complicata È più difficile, però ciò non toglie E sicuramente guadagneranno di meno Per fare il proprio lavoro Però, fortunatamente, persone ancora Che credono in quello che fanno Ci sono E entrare nei panni di questo giornalista Ecco che, come ci sei entrato E come ne sei uscito? No, allora, fortunatamente Insomma, è andato tutto bene Nel senso che il film Come dire, ha una parte di ricostruzione Attenta agli eventi così come sono andati Che culminano nel processo Insomma, il processo riporta Tutte le cose abberranti Che realmente sono state dette Dal pubblico ministero, dal giudice O dai testimoni Quindi quello è tutto vero Rispetto a tutta questa verità C'è invece un personaggio inventato Che è il personaggio che rappresa Che interpreto io Cioè, questo giornalista È un giornalista, come dire, che ci aiuta A entrare nella storia A seguire il processo E tramite la sua vicenda Ovvero quella di un giornalista Che fa difficoltà a parlare di certe cose Perché il suo direttore Che è lo stesso che gli ha affidato Il caso da coprire Poi dopo, come dire Senta che gli sta sfuggendo di mano E si comincia a parlare di cose scabrose Che sul suo giornale Non devono essere neanche sfiorate Allora a quel punto gli leva poi Il lavoro alla fine Quindi, insomma Si racconta anche questa storia Di un po' come era l'opinione pubblica All'epoca Ma da un'altra parte Come vanno le cose nel nostro paese Che in qualche modo Continuano ad essere così Esatto E a proposito di questo C'è una scena emblematica Tutto il film parla anche di questo Come dialoga con l'oggi Ma c'è una scena emblematica In cui il tuo personaggio Si trova ad assistere Alle opinioni Di un amico Della cugina Diciamo così Che parla In maniera dispregiativa E dir poco E li chiama Invertiti Ecco il tuo personaggio Si alza con sdegno E se ne va Però questo mi ha fatto riflettere Sul fatto che Quello che diceva anche Gianni Amelio Le note di regia E cioè che Magari adesso è semplicemente Lo si nasconde di più Il pensiero di alcune persone Però Purtroppo c'è ancora Qualcosa del genere Esatto Come dire Tutte le diversità In una società Che è sempre più performativa Richiede persone Che fanno numeri Chi Si distingue Per qualsiasi motivo Viene Bullizzato Diremo oggi Quindi E soprattutto Nei piccoli centri Che la cosa si vive Con maggiore difficoltà Ecco il film racconta anche la differenza Che c'è tra Roma Anche che c'era all'epoca Ma che continua a essere Una grande città Come può essere Roma O un piccolo paese Di provincia Dove queste Discriminazioni Si acuiscono Ovviamente C'è un Appunto Non abbiamo fatto Tanti passi avanti Come società Da questo punto di vista C'è sempre un 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 Maschilismo Concretizzato Nel fatto Un macismo Che solo chi è forte Viene rispettato E qualsiasi forma Di diversità Di debolezza Viene esposta Al pubblico ludibrio Perché non si è All'altezza Di Ecco Parliamo di Una storia d'amore Al di là che sia Una storia d'amore Omosessuale Ma tra due persone Comunque Anche fragili No? Con due persone Deliche Proprio per quello Sono state Appunto Esposte A quello che sono state Esposte Ennio Il tuo personaggio Chiede a un certo punto A Braibanti Di reagire Di dire qualcosa Gianni Ameno È noto in regia Dice che Se anche Non è cambiato niente Questo è il momento Di ribellarsi Vedo le cose collegate Quindi C'è una responsabilità Da parte anche Degli artisti E Gli intellettuali Ma guarda All'epoca pure Gli artisti Firmarono Una Petizione Per Braibanti Quindi Io te lo dico Nell'anno Non so quante ne firmo Quante metto di cose Per la liberazione Di quello o quell'altro Per la fine Dello scempio Di quell'industria O di quell'altra A scapito Della salute Dei cittadini Purtroppo Non serve a niente Nel senso che Le cose cambiano Quando le persone Si riuniscono Scendono in piazza Decidono insieme Riconoscendo Il potenziale enorme Che c'è In una massa Che insieme Si oppone Le cose purtroppo Cambiano solo così Non possiamo aspettarci Che un politico Decida per noi Che un artista Dica per noi E Questa è la deriva Che ci ha portato Alla perdita Di tutti i diritti Già conquistati In tutti questi anni Perché c'è un'atomizzazione Degli individui Un individualismo Che fa sì Che ogni persona Pensa soltanto Pensa di essere più felice Se pensa a sé In questo modo Siamo tutti depressi Abbiamo perso il valore Della collettività E soprattutto L'idea di battagliare Per un futuro migliore Che ci riguardi Cioè un futuro migliore Nostro Non altrui Ecco quindi le cose Cambiano E cambieranno Soltanto se Insieme Come dire Decidiamo di farle cambiare E se non lo facciamo Cambieranno in peggio Nel senso che qualcuno Deciderà per noi In chiusura Sei felice per questo film? Io sì sì Io cerco sempre Di essere felice Nonostante tutto Grazie Ero Germano Grazie a te Tra i protagonisti Il Signore delle Formiche Di Gianni Amelio In concorso A Venezia 79 Io sono Chiara Nicoletti Per Fred Da Festival Insider Fra i film radio Sono Chiara Nicoletti Dalla mostra internazionale D'arte cinematografica Di Venezia Sono con Luigi Locascio Protagonista di Il Signore delle Formiche Di Gianni Amelio Benvenuto Grazie Grazie per avermi invitato Sono felicissima di averti Perché ti ho letteralmente Rapito Sì Va bene Va benissimo Cioè fossero tutti così Rapimenti E mi hai appena detto Che non hai ancora visto il film No non l'ho visto Infatti sono molto C'è l'emozione Che ogni minuto che passa Aumenta Perché Con Gianni Abbiamo detto Ma che fare Lo vedi Non lo vedi Perché si pone anche Il problema delle interviste Appunto Uno parla di un film Che non ha visto Ma qua io Sono venuto più che altro A parlare Di come sono stato coinvolto E come dire Di come mi sono preparato Di una storia Che ho conosciuto Appunto Facendo Interpretandola Per cui C'erano già Tanti elementi E mi sono lasciato Invece per ultimo Il fatto di vedere il film Insieme Insieme alle persone Insieme agli spettatori Questo è un momento In cui è bellissimo Perché l'attora a un certo punto È come ha fatto Ha dato E poi cerca di raccogliere Insieme agli altri Perché insomma Io sono poi tra l'altro Sempre stata Sempre Un grandissimo Ammiratore di Gianni E dei suoi film Le ho sempre aspettate Allo stesso modo Quindi questo Vederlo seduto accanto a lui Qui a Venezia È fantastico Infatti Hai appena detto Un film che non ho visto Però Io mi spingo a dire Un film che Hai vissuto Molto Cioè C'è proprio È una storia d'amore E quell'amore Lo vediamo Lo sentiamo Leonardo Maltese Esordienti accanto a te Quindi doppia responsabilità Per te No Sì 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 Ma no Cioè È come se poi Mantenendo la singolarità Di ognuno Cioè il fatto Le differenze Il fatto Ognuno C'è la sua personalità Il suo carattere Arriva alla storia d'amore In un modo diverso È anche un rapporto Tra un maestro E un allievo Quindi è ovvio che Eppure appunto Se le posizioni Quando siamo semplicemente Come dire Nella fase In cui Sta per nascere l'amore Ed è più forte Il rapporto Del discepolato Non so come dire No Di qualcuno Che pende Dalle tue labbra E quindi tu Il mio personaggio Il mio personaggio È forte Capace Indica la strada È pieno di stimoli Per l'allievo E poi invece Quando si è Nella storia d'amore Tutto diventa invece Non c'è più Alto, basso Chi comanda Chi è Ma si vive appunto Nella emozione comune Dice a un certo punto C'è qualche cosa Per cui Il mio personaggio Diventa La persona Poi Anche incerta Diventa Si intimidisce Le paure La gelosia Ecco Dove appunto L'amore diventa poi Una relazione E i confini Dei soggetti Si perdono Uno nell'altra Ne parlavamo con Con Elio prima Ecco Mi ha colpito L'hai detto anche In conferenza stampa Questo Diciamo Paradossalmente Titubanza Del Di Aldo Nel parlare A sua difesa Questo Questo silenzio Prolungato Che poi viene scosso Un po' Anche dal rapporto Col giornalista Delio E poi lui Come te lo sei Spiegato tu? Ma Ogni volta C'era un motivo Nuovo Che mi Colpiva Intanto Quello Che si vede Anche nel film Probabilmente La paura Di essere Strumento Di una lotta Di un contrasto Che superava La sua persona Il suo Essere Come dire Era come se Poteva essere impugnato Ideologicamente Dalle due parti Lo dice anche dopo Aldo Brebanti Quello vero Diciamo A distanza di tempo Io non volevo essere L'utile idiota Utilizzato dalle due parti Per un contrasto Per una battaglia Che è quella appunto Diciamo da una parte Della rivoluzione Dei costumi Il 68 Perché la cosa incredibile È che questa Che è la sentenza È del 68 Cioè nello stesso anno C'è da una parte C'è la contestazione Dall'altra parte C'è invece La giustizia Che punisce Che reprime Quei suoi strumenti Che espelle La differenza Appunto Che discrimina Ecco quindi Diciamo in questo senso Intanto c'è questo elemento qui C'è l'elemento di una persona Che vuole sottrarsi A qualcosa Che lo sorpassa Qualcosa di troppo grande E dall'altra parte Secondo me Quella un po' più Dal punto di vista Che ha a che fare Col carattere di Aldo Cioè il silenzio Può essere Non è una resa Il silenzio Può non essere passività Ma un modo di affrontare Come dire Il persecutore In maniera Molto più alta Indecifrabile E come dire Quando io rispondo A un'accusa È come se si creasse Qualcosa di orizzontale Cioè noi due Stiamo sullo stesso piano Tu dici A Io rispondo B Ma si crea una dialettica Se tu invece Mi perseguiti E io non ti rispondo È come il silenzio Sotto tortura È cosa di molto forte Che obbliga Il torturatore Il persecutore A guardarsi A partire da questo silenzio Chiudo Chiedendoti Ne parlavamo Con un collega Qui con Angelo Adesso Io raccontavo Che vedendo il film Pensando che era Una storia vera E che quindi apparteneva A un'eredità di italiana Anche questo Mi sono vergognata Non poco Di appartenere E ho pensato Che ovviamente Come dice anche Gianni Amelio Come sappiamo tutti Queste cose Non è che Si sono Questa situazione Non si è chiusa qui Quindi mi chiedo Come ci possiamo ribellare Come ci invita anche Gianni Amelio Nelle note di regia Ma intanto Non dando per assodato Che so Una legge Per quanto appunto Le leggi Le cose sono I momenti appunto In cui una società Mostra il suo Tratto di civiltà Quindi questo sicuramente Ma nello stesso tempo Aspettando che i nostri Chi ci rappresenta Arrivia delle cose Sperando che prima o poi Ce la faccia Ha qualcosa di più Fermo E più Capace di Appunto Proteggere La fragilità Di persone Che appunto Sono costrette A sentirsi fragili Quando non ce ne sarebbe Nessun motivo No Accanto a questo Però Tutti noi Possiamo contribuire Agitando il discorso Con quella Questa è la controparte Rispetto a noi Cioè Ma si è sicuro Che esiste una naturalità Dell'umano Che la storia d'amore È naturale Se è così E questa invece È sghemba È obliqua È turpe Ecco Tutto questo Secondo me Il fatto di Nel dialogo quotidiano Su questi argomenti Secondo me È soprattutto Questo è un mio punto di vista Anche Come dire Interrogarsi Se non siamo poi In fondo Tutti diversi Cioè Il fatto che Ognuno di noi Anche le persone Che hanno bisogno Di sentire Di appartenere Alla normalità Alla convenzione Veramente amano Questo di se stessi O vogliono anche loro Che qualcuno Protegga la loro Anormalità Il loro essere Veramente singolari Unici Dei soggetti Irripetibili Ecco Questo secondo me Il discorso Sulla differenza Può essere Può toccare chiunque La sposo totalmente Ti faccio bocca al lupo Per il signore Viva lupo Luigi Locascio Venezia 79 Io sono Chiara Nicoletti Per Fred Festival Insider Grazie